I due fucilieri di Marina Massimiliano Latorre e Salvatore Girone debbono sottomettersi alla giustizia indiana. Lo ha dichiarato oggi a New Delhi Akutan, membro per il Kerala del Raya Saba, la Camera Alta del Parlamento. Akutan ha anche detto di non essere contento per la risposta ricevuta. Per me, ha detto, i due fucilieri italiani debbono sottoporsi alla giustizia indiana e quindi nessun intervento diplomatico dovrebbe essere ammesso in questo ambito. Solo poco fa era arrivata in Italia la notizia che l'India sta finalmente esaminando con spirito positivo la proposta di soluzione consensuale della vicenda dei due fucilieri pugliesi. Per la prima volta, quindi, l'India ha allo studio una proposta italiana per la soluzione della vicenda. Lo ha rivelato in una risposta scritta e inviata ieri al Parlamento il ministro degli esteri Sushama Svarai. Due membri del partito comunista indiano del Raya Saba avevano presentato al governo una interrogazione sulla vicenda dei militari italiani bloccati in India. In essa si chiedeva se è un fatto che il governo italiano ha cercato una soluzione consensuale alla vicenda da tempo in sospeso dei due militari italiani accusati di omicidio e di due pescatori indiani nel 2012 a largo delle coste del Kerala e, in caso di risposta positiva, si intendeva sapere a che punto è il caso oggi e qual è la reazione del governo indiano e la proposta del governo italiano su di esso. Nella risposta scritta e inviata ieri sera al Parlamento il ministro Svarai ha risposto sinteticamente sì alla prima domanda e sostenuto riguardo alla seconda che la questione è attualmente all'esame della Corte Suprema dell'India mentre la proposta del governo italiano è attualmente all'esame del nostro governo.